Presidente, il discorso di Squinzi è stato molto forte, dopo quattro anni la crisi continua a mordere e siamo sempre in attesa di risposte, forse è questo che soprattutto manca? Io credo che abbia fatto un'analisi precisa sulla capacità comunque del sistema manifatturiero italiano di reggere in una realtà globale nella quale l'attività manifatturiera europea non sta crescendo. Quindi il rapporto che faceva Squinzi nel 2007-2013 ci indica che non vi è stata variazione di rapporti tra noi e la Germania ad esempio. Quello che però ha sottolineato non solo lui ma direi con grande forza è che i risultati avuti negli ultimi due anni sono sicuramente condizionati da una serie di interventi di natura legislativa, fiscale non soltanto, che hanno appesantito molto l'attività delle imprese, io dico anche delle famiglie naturalmente e che hanno creato nella logica del rigore anche un'ansia che non porta ai consumi e non porta ai nuovi investimenti. Quindi certo il rigore ma bisogna capire che la chiave di volta è la crescita. Noi abbiamo un prodotto interno lordo che diminuisce, è evidente che poi tutti i parametri legati al rispetto dei parametri di Maastricht, il 3% del deficit, il 60% del debito, non hanno più nessun significato. Infatti se guardate praticamente pochissimi paesi in Europa riescono a stare dentro al 3%. Allora o l'Unione Europea comprende che sono mutate delle condizioni globali e che quindi la competizione con grandi paesi Cina, Corea, Vietnam, India, Brasile, Sudafrica porta il sistema Europa a dover riflettere diversamente sulle proprie realtà oppure rischiamo di vedere una realtà implodere e oltretutto i tedeschi, e questo non è un bene, lo diceva bene Squinzi, i tedeschi stanno rallentando, i francesi hanno rallentato. Perché non è un bene? Perché sono i nostri mercati primari e quindi va a finire che anche l'export viene a diminuire. Grazie a tutti.